Ragazzi qui è FortoGamer che parla, benvenuti in un video leggermente diverso dal solito ragazzi Infatti oggi non faremo una partita né una live ragazzi ma bensì voglio fare una reaction alle migliori clip che ninja abbia mai fatto Almeno comunque parlo del ninja di un anno fa, il vecchio ninja ok? Quindi non vedremo clip recenti Mi andava di farlo ragazzi quindi ho deciso di cambiare leggermente format di video almeno per questa volta Mi raccomando se video di questo tipo vi possono piacere vi ricordo di lasciare un like qui in basso ed iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Fatemi sapere ragazzi se questi video vi possono piacere, non perdiamoci troppo in chiacchiere ragazzi io direi di partire quindi col video Ok ragazzi quindi io sto per mettere un video dei ninja Fortnite best moments che però risalgono un anno fa Io questa clip forse già ho capito qual è perché vedo un fucile di precisione in mano al ninja però voglio vederla bene Mettiamo quindi le cuffie, ok andiamo Sì ragazzi credo di sapere che clip è, credo di sapere che clip sia però voglio essere sicuro Sì sì ragazzi è lei, è lei questa me la ricordo ok Questa era la modalità che c'era solo cecchini ai tempi E raga quanto è bella tilt, mamma mia ragazzi ve lo ricordate il nostro palazzo, troppo figo Ok vediamo ninja che fa, ha un HP ragazzi e ha un team addosso, è veramente una situazione difficilissima Qui con le conoscenze odierne ragazzi proverei semplicemente a farmi il giro per eliminarli Ma guardatelo invece cosa fa, sa che stanno curando, quindi elimina due nemici con un doppio headshot E fa un edit, elimina il quarto ragazzi Madora ragazzi troppo bella sta clip, me la ricordo come se fosse ieri Fu una delle più belle che, cioè è una delle più belle che ho mai visto di ninja questa Vediamo questa qui invece ha uno scar, un fucile a pompa, un fucile di precisione, sta bene a livello di pozze E beh capita anche questo, ninja cosa sta facendo, ninja dove vai, cosa sta facendo Qui vediamo invece quest'altra clip, ha un vampa, un assalto, un fucile di precisione, un paio di cure Si è fatto un po' colpire, bellissimo, bellissima kill con vampa, devo dire che da azzeccare quasi tutti i proiettili Sta un altro inizio sotto, si, ah ok sta arrivando, si si ecco ce l'ha Blocca io Ragazzi 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 ha piazzato il muro e poi gli ha levato il proiettile Ragazzi scusatemi eh, no scusatemi io devo metterlo più lento perché questa cosa non l'ho capita bene manco io Infatti lui ha detto ragazzi registratelo perché Lui Piazza il muro, il muro è piazzato E viene lanciato a terra ragazzi Ragazzi Ma vi rendete conto? Oddio Inquietante Eh infatti lui ha detto io vorrei mostrare a tutti quanto questo gioco può migliorare Effettivamente si questo è uno schifo che non mi pare accada più E cavolo dire, sentire queste cose ragazzi fa un po' venire la pelle luoghe da parte ninja Ah c'è, c'è un tizio, c'è un tizio lì C'è un noob ragazzi lui ha pranchi ma di 17 kill, voleva dare la jug al nemico Uh, ragazzi spara Attenzione è cazzadissimo il, il noskin Ma cosa sta facendo ragazzi? Non, non, non coprendo Gli sta portando la jug ragazzi, che troll assurdo Ma cosa sta facendo? Eh vabbè passa fuori Ragazzi ma a me è bello vedere questo vecchio Fortnite dove incontravi ancora sta gente Erano possibili ancora questi troll Questa che è stagione 3, 2 Non ho ne ho idea ragazzi, mamma mia che ben ricordi Cosa sta facendo? No ragazzi lo piccone Il piccone faceva ancora 10 di danno Regà Inquietante Cosa sta facendo? Vabbè Victory Royale Ragazzi ancora la versione vecchia dove non rallentava Ok ragazzi ha detto che è a 15 kill Scarf, fucile a pompa, fucile di precisione, lancia granate Ninja utilizzava molto il fucile di precisione bolt, il bolt action ai tempi A parte che mi pare fosse l'unico fucile di precisione possibile a quei tempi Io forse questa clip la ricordo ragazzi, se la ricordo Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle, vediamo che fa Allora lui piazza la Me la ricordavo Me la ricordavo Me la ricordavo, no, no, devo rivedere ragazzi Me la ricordavo, me la ricordavo, no Si bugga, non si sa in che cosa ragazzi Forse l'ho giudata dell'albero e Cade Madonna ragazzi che ripa Che ripa 15 kill eh Che tempi erano molto buone Vabbè Ma il roll, ma quanto era OP ragazzi 135 in headshot Get off me, ma cosa Graf mi un cavolo bro Mette il metallo a terra, utilizzo il metallo per costruire il muro e comincio a fare Ma perché utilizzo il metallo? Il mio cervello sta andando in pappa E poi cade su una trappola e poi si incazza Ragazzi comincia a squelare Allora ragazzi io ninja lo amo Su serio veramente Uno dei miei streamer preferiti Ripeto per intrattenimento Secondo me è il migliore assolutamente Non si discute Andiamo Che? Ah stava alla finestra Ok bella Ragazzi questa è bellissima cecchinata No ragazzi non ne fa un'altra vi prego Non ne può fare un'altra di fila Questo col semi automatico Ok sta sfondando No ragazzi allora la fa La fa la fa No no la fa Ok mi aspettavo la facesse Va bene Vediamo invece Uuuu È stato bellissimo che ha abbassato la testa Lo faccio anche io È divertente Ah ok no era divertente Perché appunto anche lui abbassava la testa 100 100 Ma che stava dicendo Ok sta lì Sì sì sta dietro al muro ragazzi Sulla montagnella Vediamo che fa Bello bello Questa per esempio Già ora ragazzi Questa che il che ha fatto Non è eccezionale Perché l'edit Con lo sparo dopo di fucile precisione Lo fanno ormai quasi tutti Però ai tempi raga Era qualcosa di folle Credetemi Io sono un OG di forte Niente questa cosa Ai tempi spaccava di brutto Vediamo qui che fa Ok non l'ha hittata Che tiene due fucili di precisione Sì è sempre la modalità Di fucili di precisione Quella che abbiamo visto Nella prima sleep Infatti lo stanno massacrando Ragazzi Bella bella Uuuuh Raga ma La revolver Che faceva 150 È inquietante Sta risalendo qualcun altro Mamma mia ragazzi Madò Madò Che mira ragazzi È vero che c'ha l'einbot È inquietante Madò Bella per ninja Vabbè ragazzi Ah no Qua bestemmiato Vabbè bene 142 Bellissima questa La prima kill trap Ero i primi Ma che che Com'è questa trappola Non funziona No Ragazzi era la kill finale Lui prova a trappare il nemico Non so perché la trappola non parte E il nemico si butta giù Lui aveva 27 kill Poteva fare 28 kill Guardate la sua Faccia Ragazzi Ok Ok qui invece È partita normale Credo sia in duo Sì almeno in duo è Bella Ok ok Bella 27 Sì almeno in duo Ah ragazzi quando urla così Mi gasava troppo Let's fucking go Let's fucking go You had 13 I had 27 Let's fucking for Ah ragazzi In pratica ha detto Vabbè ho fatto il record di PC E diceva È così che noi lo facciamo Ragazzi Mi faceva gasare troppo Infatti Let's fucking go Che ho poi aggiunto Babe L'ho preso comunque da lui Perché era troppo bello Ragazzi Mi gasava un sacco GG GG ragazzi 27 kill Mamma mia Vediamo Ah qua era Il rocket riding Ai tempi Cioè il fatto che tu potessi Surfare insomma Sul Sul razzo Vediamo che fa Oh no no Madonna Ok Bella Primo Secondo Mamma mia ragazzi Non è stato tanto Per i nemici che ha eliminato Perché sono stati semplici Da eliminare Ma è per il salvataggio Che ha fatto Vediamo invece questo No Cavolo ragazzi Madonna No Questa ragazza Non lo ricordo Quedate Quedate Regà No Vedete lì che urla sotto Poi c'è qui ragazzi Vediamo il ninja che si fa Aonde si kill Ok Vabbè sto prendendo in giro Due tipi Cioè sto prendendo due in giro Uno lo fa ballare Lo elimina Ok Ragazzi 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 Saremo che il telefono Hai Mipi Ma così Ha trollato troppo E poi l'ha sbagliata Ha smirato troppo Dai Andiamo Vabbè, se lui ci viene e gli dice sto arrivando col mio glider, è bello figo E se è un tizio lì che si sta facendo le bende Lo fa ballare, ok Lo mette gli trappi, lo trappa Ma credo, scappi ragazzi, credo Ok, no Ok ragazzi In pratica, ripeto, questa non è una bellissima kill trap Però ai tempi era figo trappare, cioè non lo faceva quasi nessuno Ok, wow, tre persone 200, cosa, cosa, la double pump ragazzi Madonna, la double pump, la double pump Guardate regà Ha detto la miglior cosa che io preferisco C'è la cosa più bella Della double pump E quanto è bilanciata E quanta skill necessita per essere utilizzata Questa era bella ragazzi Questa era sonnesti Vediamo C'è un nemico sopra ragazzi Se lo fa cadere Veramente Godotro Madò Che soddisfazione Bella raga questa Bella Questa è veramente figa Ok, GG per te ninja Ragazzi quindi il video di oggi si conclude qui Mi raccomando Vi ricordo che se vi è piaciuto Vi dovete iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdervi Nuovi video Così Ragazzi fatemi sapere Se volete che io faccia reaction A anche altri clip Di altri importanti streamer O comunque pro player Di Fortnite Intanto ragazzi Vi saluto Vi ricordo magari anche Di seguirmi sul mio profilo Instagram Che si chiama Porto The Gamer C'è il link in descrizione E di mettere sempre Il codice creatore Fortu Ragazzi lo potete vedere In basso Non so se c'è ancora Comunque tutto scritto piccolo Fortu Nel negozio Mi raccomando E ragazzi ci becchiamo Alla prossima Ciao Ciao